Fa tripletta uno scatenato Fabio Longo, stravince la Fragolese, perde 3-0 il Martina nel turno infrasettimanale della quarta giornata di Serie D. Seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Massimo Pizzulli che restano così a quota 3 punti in classifica, diventano 7 invece quelli dei campani che consolidano la propria presenza nella parte sinistra della graduatoria. Si gioca allo stadio Ugo Gobato di Pomigliano d'Arco, partono forte i padroni di casa, Cordato cerca Longo ma trova da Dalt anticipato proprio in extremis. La Fragolese mette la freccia poco dopo il quarto d'ora, Aracri ha una bella idea per Longo, che batte così suma e porta in vantaggio i suoi con un pregevole pallonetto e 1-0. Il bomber dei campani potrebbe ripetersi già a metafrazione ma forse esagere in altruismo e serve Aracri non come avrebbe voluto. A Fragolese dunque avanti di un uomo dall'intervallo perché la conclusione di Salvi in pieno recupero è imprecisa. Ripresa, l'undici della Valle Dietri approva a partire con l'acceleratore premuto con il chiaro intento di riequilibrare le sorti della contesa. Capitano ancora sceglie la soluzione da fuori aria ma la sfera termina sul fondo poco dopo l'ora di gioco. Però si complica la faccenda per gli ospiti, fallo di suma su esposito in aria e calcio di rigore dal dischetto. Longo realizza la doppietta personale e soprattutto fa 2-0. Non getta la spugna in Martina, Mangialardi prima conclude centralmente, poi al termine di un'azione corale. Chiama l'intervento d'autore a probitolo che salva il doppio vantaggio dei suoi. La migliore chance per riaccendere la contesa arriva un quarto d'ora dal termine. Altro rigore, questa volta per gli ospiti in virtù dell'atterramento ai danni di Pinto dal dischetto. Sbaglia tutto però il tato di azza. Questa volta è davvero dura per gli uomini di Massimo Pizzulli che non riescono a rimettere in discussione il verdetto finale. Anzi è lungo, servito da Mancino ad andare ancora a segno, fa 3-0 e si porta a casa il pallone. Finisce così, finisce con il netto successo della Fragolese che colleziona la seconda affermazione consecutiva e si propone come seria candidata all'alta classifica, secondo KO di fila. Invece per il Martina che proverà a riscattarsi già domenica prossima al Tursi. Missione tuttavia non semplice contro un Brindisi ancora imbattuto che punta alla Serie C.